Il prossimo pezzo è un pezzo agosto, si titola Boringer, a tutti si era capitato di uscire di casa per andare a lasciare una fidanzata o pseudotale Questa è la storia di un giovinotto che appunto esce di casa a mezzo sbronzo nella notte precedente e va a abbandonare la sua consorte di quei tre giorni E niente, questo è il contesto Sono tre giorni Sono tre giorni E non state davvero sudando perché non è ancora poco Ma ciò siete pochi, muovetevi fra te e il fratto, non mi saranno Ma fate nei cerchi Ok Ciao Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.